quello che dice i colori, ti fa tipo l'oroscopo sul colore, fa tu sei bianco, tu sei rosso e tu sei azzurro, eh sì perché tu sei timido, però puoi fare tanto la persona a fronte come è che comincia a asciudare qua a fare, guarda non c'è più niente proprio che bello si può fare anche l'azzurro, è felice, è felice, è felice, fa parte pizze, porco dio, eh infatti